L'orditoio che il 3 maggio scorso ha risucchiato e ucciso Luana Dorazio stava viaggiando a velocità massima, la fase più pericolosa, quella in cui le saracinesche di sicurezza devono essere necessariamente abbassate, è quanto racconta la perizia sull'incidente sul lavoro costato la vita alla 22enne depositata al Palazzo di Giustizia di Prato negli uffici della Procura diretta da Giuseppe Nicolosi. Dopo oltre tre mesi di lavoro e risponso della consulenza sembra sciogliere il dubbio più importante, quello sulla fase di lavorazione del macchinario. La ragazza sarebbe stata trascinata nel momento di massima potenza. Questo potrebbe complicare la posizione di due dei tre indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche. La titolare dell'azienda Luana Coppini e suo marito Daniele Faggi, ritenuto dagli inquirenti gestore di fatto della ditta. Sarebbero invece meno gravi le responsabilità del manutentore dei macchinari della ditta, Mario Cusumano. Luana, giovane mamma di 22 anni, era un'operaia apprendista di un'azienda di Montemurlo e morì dopo essere stata trascinata nell'orditoio. Quel giorno, a lavoro, indossava una tuta sportiva. Si è probabilmente avvicinata al subbio il grande rotolo orizzontale che raccoglie il filo. La serranda di sicurezza era alzata e Luana è stata agganciata da una staffa laterale, un'asta che gira insieme al subbio e trascinata via, trovando immediatamente la morte.